Tutto si affiava, tutto si affiava, mi viene su terra, mi conta di vita. Tutto si affiava, mi vuoi il Extremo, c'è l'unità diötturi, che gl obviously sono in questo tipo di vita, mi vorrei assessori, che l'e suffers, mestre dove ven vídeo... ...maio mondialmente al volo... Grazie a tutti. Grazie a tutti.